Una banda molto organizzata, troppo organizzata perché ha proprio fatto l'interland qui del paese, quindi sembrava una spedizione. Scia di furti nella notte in alcune aziende che si trovano nella zona industriale di Castiglione a Fiorentino, in provincia di Arezzo. In azione una banda di malviventi ben organizzata, ma soprattutto ben attrezzata. Questi sono i segni dello scasso che praticamente è avvenuto. Anche qua c'è questo segno che hanno addirittura strappato la saldatura. Le incursioni sono avvenute alle prime luci dell'alba di mercoledì mattina, quando i banditi hanno visitato tre aziende che si trovano in via Arno. I malviventi sono riusciti ad entrare prima in un salumificio dove hanno rubato alcuni coltelli. Le loro mire poi si sono spostate verso un'officina meccanica ed infine i banditi sono riusciti ad entrare all'interno di un'azienda specializzata nella produzione di pannelli coibentati e materie plastiche. Hanno proprio assaltato tutte le varie porte, finestre, però poi fondamentalmente non si sa neanche perché, perché poi è stato un assalto, poi non hanno trovato niente. Sui furti stanno indagando i carabinieri della stazione di Castiglion Fiorentino, al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune castiglionese.